e saluti tutta balenieri questo scommetto che ha fatto da un procuro l'applauso che san nino mi è che san nino mi degli ha fatti eh allora parangelo parangelo grazie Giorgia, Rocco, Chiara e Debora un applauso quello è qui è il nome mio ha detto vediamo questo ragazzo è pure io il caffè c'era anche la piattola ho due so ma perché no? ma perché gli avete comprato? ma che gli avete comprato? è bianca? oh così si vede il peccato grazie grazie a tutti oh se sto bianca sono senza nonna era ora oh senza mutande non ti potavamo vedere grazie è che siamo quelle bucate ma quella che mi chiamate ma pure vieni a praga va questo è un praga se non lo vieni a me non ti senti la mia oh 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 è bianca è bambella quella mamma mia non ti arrivi vergognando a cincino oh e mantieni a guarda ecco eh grazie a tutti oh secondo me gliela abbassa il prossimo per vendicarsi da quello del compleanno suo Sì, sì, conferma, è proprio così, sì. Noi c'è la modifica. No, è robetta seria. Oh, dai, perché gli puoi fregare ai mutanti ma non gli puoi fregare? Sì, grazie. Grazie a tutti. Oh, questo è il tempo proprio, ora, grazie a Garnagno. Non dovevamo vinto. Oh, già tu hai la cartigianica scata, no? Oddio, ha vinto. Aguri, corregione. Ma la ti metto in macchina, B. Vabbè, la me la metto in macchina. Stanno a dir in macchina, eh? Ok. Oh, c'è sto scritto inutile che ti sporti, eh? Le fai di duo. Ma quanto durerà questa cartigianica? La ciba. La vita. Perfetto. Eh, la mia ha finito da dubbi, no? Oh, B, ma non ti parlo, non fa troppo. Oh, è vero. È vero. No, è vero. Ah, sì, sì. Vabbè, la plaza Davide che... Sta a perdere fisico, sta a perdere fisico. Sta a perdere fisico. Sta a perdere fisico. Wow. Grazie a tutti. Ho un fisico? Ho un fisico professional. Po, raffiabile, mi piace. No, da te piace. Ho la cena, che dopo. Grazie a cena, grazie. La laurea. Mettete la fascia, mette la fascia. Arcontraneo, vi è vero. Arcontraneo, vi è vero. Arcontraneo. 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 Arcontraneo, vi è vero. Arcontraneo. Abbi guarda, ci devi andare a ballare. no ragazzi dai a spalla a me l'altra l'altra spalla a parte i mangiati benignazio ti amo benignazio lo sto a mangiare tutti prima il discorso allora benignazio a tutti bravo benignazio del regano c'è gente che dà questo è da parte mia di Chiara aspetta aspetta sì sì non è cinquante anche pure di meno anche di meno aspetta ma cosa sarà è il caffè pronto